Parliamo di socialismo. La rivoluzione industriale ha in qualche modo creato il proletariato, cioè creando un bisogno di mano d'opera nelle fabbriche, molti contadini, soprattutto piccolissimi proprietari terrieri o addirittura abbraccianti agricoli, hanno lasciato tutto il loro patrimonio nelle campagne, a volte molto poco, per trasferirsi in città. Ora, se in campagna comunque potevano avere anche una piccola agricoltura di sussistenza, è ovvio che invece in città non possono produrre più niente per mangiare. Quindi diventano semplicemente produttori di figli e mano d'opera per le fabbriche. Hanno bisogno di denaro per vivere. La creazione di questa nuova classe sociale porta una questione, una questione sociale, una serie di problemi. Il capitalismo prevede il capitale che serve per pagare materie prime, macchinari e mano d'opera al fine di ottenere una ricchezza. Questa ricchezza tolte le spese dà un profitto. Questo profitto è nuovo capitale da investire. Da questa equazione viene fuori questo circolo. Alcuni uomini facoltosi hanno a disposizione un capitale, lo investono per produrre ricchezza e diventare sempre più favoltosi, in modo da poter avere ancora capitale da investire e così via. Il proletariato presta la sua mano d'opera in cambio di una paga, ma non partecipa alla ricchezza prodotta. È ovvio che in questa equazione che abbiamo visto, per guadagnare di più è necessario spendere meno possibile. Per guadagnare quindi il più possibile. Per spendere meno possibile, bisogna pagare meno possibile agli operai e le materie prime. Il problema è che se io pago meno possibile per le materie prime, lo posso fare in due modi. O comprando materie prime scarse, ma in questo modo il mio prodotto sarà di bassa qualità e quindi rischio di fallire, oppure obbligando i produttori delle materie prime a darmi le loro materie prime a bassissimo prezzo. L'altro modo è quello di intervenire sulla mano d'opera. Pago la mano d'opera meno possibile e faccio lavorare gli operai il più possibile. In questo modo i proletari lavorano al massimo delle loro possibilità, anche umane, però guadagnano meno di quanto sarebbe sufficiente a vivere. È questa la questione sociale. Le condizioni di pressoché schiavitù dei proletari nella prima rivoluzione industriale. Nascono qui i socialismi. Dico socialismi perché sotto la parola socialismo ci rientrano molte diverse concezioni. Una delle prime soluzioni escogitate è quella di mettere le fabbriche nelle mani degli operai. Chi è che lavora gli operai? Gli operai devono possedere gli organi di produzione. E quindi distribuire tra tutti loro la ricchezza prodotta. Alcuni esponenti di questi primi socialismi sono Henri de Saint-Simon, Pierre Proudhon, Charles Fourier, Robert Owen e sono raggruppati in quello che viene chiamato, che è stato chiamato, socialismo utopico. Perché utopico? Perché rappresentava un ideale, ma non c'erano delle precise riflessioni scientifiche che supportassero quelle idee. Venne chiamato socialismo utopico da quelli che inventarono il socialismo scientifico. E venne chiamato utopico proprio per differenziarlo dal socialismo scientifico. Il socialismo scientifico si basa sull'opera di questi due signori, Karl Marx e Friedrich Engels, e nasce fondamentalmente nel 1848, notare 1848, con il Manifesto del Partito Comunista. Cos'è un manifesto? Il manifesto è una dichiarazione di intenti. Noi vogliamo fare questo. Qual era il concetto? La società è divisa in classi sociali. Da sempre. Per sempre. Le classi sociali sono gruppi di persone che svolgono ruoli precisi e distinti nella produzione della ricchezza. Nella società moderna abbiamo i capitalisti che mettono il capitale, investono il capitale, e i proletari che mettono a disposizione la loro mano d'opera. Ci sono delle classi dominanti, cioè quelle che si arricchiscono alle spalle delle altre. In la presenza di una classe dominante e classi sottoposte creano dei conflitti. Questi conflitti vengono chiamati lotta di classe. La lotta di classe è la principale responsabile, principale causa dei mutamenti sociali. senza contare che fra gli imprenditori c'è una grande competizione, una competizione sfrenata, tesa al raggiungimento della massima quota di mercato, cioè il maggiore profitto possibile a spese degli altri imprenditori. Concorrenza. Questo porta a volte al fallimento degli imprenditori meno competitivi. Il fallimento degli imprenditori meno competitivi comporta la chiusura delle fabbriche. La chiusura delle fabbriche comporta il licenziamento degli operai e quindi un ulteriore impoverimento e la proletarizzazione degli imprenditori. In entrambi i casi le condizioni di vita degli operai peggioreranno in continuazione. Finché arriveremo a un'enorme maggioranza di proletari sottomessi e sottopagati e a una piccola minoranza di imprenditori ricchissimi. Questa era la profezia, la profetizzazione, in realtà era una conclusione che lui riteneva scientifica, di Karl Marx. Arrivando a un mondo in cui per ovvi motivi avremmo avuto un'enorme maggioranza di proletari sottomessi e sottopagati e una piccola minoranza di imprenditori ricchissimi, sarebbe scoppiato qualcosa, un cambiamento che avrebbe portato al comunismo, cioè alla presa della predominanza sociale da parte del proletariato che avrebbe attuato una società senza classi. Senza proprietà privata, lavoro ripartito tra tutti, forme di produzione in mano ai lavoratori, ricchezze distribuite tra tutti. Questo portò alla prima internazionale nel 1864. Siamo esattamente nel periodo dell'unità d'Italia. Abbiamo appena la giunta nel 61, poi abbiamo nel 71. La prima internazionale vide subito la contrapposizione tra questi due personaggi. Da una parte Karl Marx e l'altra Barron. Da una parte si voleva arrivare a una contrattazione parlamentare, anche una serie di riforme, dall'altra invece il governo stesso era visto come uno strumento delle classi dominanti, per cui era necessario abbattere i governi stessi tramite attentati, tramite atti armati. Questo contrasto insanabile portò allo scioglimento della prima internazionale. La seconda internazionale avvenne alla fine dell'Ottocento, siamo nel 1889. Una delle figure fondamentali fu appunto Yenin. Spero che sia tutto chiaro. Ci vediamo al prossimo video. a a a a a Grazie.